Quattordio in provincia di Alessandria ha ospitato l'unica prova di Coppa del Mondo Gravel in Italia, la nuova disciplina del fuoristrada. La gara si è corsa sabato 3 settembre, snodandosi sulle colline del Monferrato. Sono stati più di 300 di atleti al via in rappresentanza di 20 nazioni. Inquadrato il CT della nazionale Daniele Pontoni, per l'occasione il commissario tecnico ha selezionato Antonio Folcarelli e Mattia Viel. Mentre sono state 3 le ragazze in maglia azzurra, Carlotta Borello, Rebecca Gariboldi e Barbara Guarischi. Presente a questa importante manifestazione abbiamo visto anche Massimo Ghirotto con la bandierina a scacchi Alessandro Venezia, sindaco di Quattordio. Al suo fianco il sindaco di Fubine, Lino Petazzi, che hanno dato il via alla Monsterrato, prova di qualificazione ai prossimi campionati del mondo. Si svolgeranno il prossimo 8 ottobre in provincia di Vicenza, Cittadella. La Monsterrato, organizzata da Bike Comedy Cycling, si è svolta su due tracciati, il corto che misurava 65 km. Mentre vediamo le immagini della partenza, data alle ore 10. La prova regina si è corsa sulla distanza di 125 km. Passiamo alle immagini della conclusione della gara corta. Ad imporsi dopo 65 km è stato Alessandro Cottini della Martica Bike Team. Bella volata per il Lombardo, che ha preceduto Andrew James Mayo, portacolore della ceramica Lemmer. Lasciamo la gara corta, vinta da Alessandro Cottini, e passiamo alla gara regina di 125 km. A metà di questa Monsterrato si portano al comando una dozzina di corridori. Da questo gruppetto, prima del passaggio da Fubini, circa metà gara, allunga lo spagnolo Sergio Mentecon, seguito da altri sei atleti, Luca Ciberario, Thomas Bundegaard, Mattia Viel, Piotr Havik, Nathanas e Christian Kleukler. E così si transita da Fubini con sette corridori al comando e si va verso la conclusione. Si passa da Altavilla nella frazione Franchini, perdono contatto da prima Thomas Bundegaard e successivamente Mattia Viel e Christian Kleukler. E al comando rimangono Luca Ciberario, portacolore della Beltrami, l'olandese Piotr Havik e l'australiano Nathanas con lo spagnolo Sergio Mentecon. Quest'ultimo partito nella seconda griglia, nella categoria dei 35 e 39, mentre gli altri tre corridori sono partiti nella prima fascia, nella categoria dei 19 e 34. La partenza dello spagnolo Mentecon è avvenuta 45 secondi dopo, quindi al momento, al comando per quanto riguarda la classifica assoluta. E così si giunge all'arrivo di questa Monasterrato, prova di Coppa del Mondo per la specialità Gravel. Si va ad affrontare la volata, la spunta l'olandese, il 28enne Piotr Havik e precede il professionista australiano Nathanas. In terza posizione il bravissimo Luca Ciberario, il portacolore della Beltrami in cerca della convocazione ai prossimi campionati del mondo. In quarta posizione con il miglior tempo, così va a vincere la Monasterrato nella classifica assoluta lo spagnolo Sergio Mentecon. In quinta posizione Wollenberg e precede Cristian Kleukler. In ottava posizione assoluta l'azzurro Mattia Viel, mentre tra le donne a vincere è stata Svenja Bez. Seconda l'azzurra Barbara Guerischi, completa il podio la Comerwell. Andiamo a sentire l'intervista che ha realizzato Fabio Guerini. Sergio Mentecon è il vencedor della Monasterrato. Che tal? Un'emozione fantastica. Sì, molto contento perché è la mia prima esperienza in carriera di Gravel. Io vengo del mountain bike e aveva molta incertidumbre su cui mi aveva incontrato, che tipo di carriera. e io ho apprendito chilometro tra chilometro e soprattutto ho disfrutato molto dei meravigliosi terreni italiani. E mi avevo un buon ricordo della carriera. Sì, quindi è un risultato totale per lui, il punto del Gravel, che viene dal mountain bike, una delle stelle del panorama mountain bike mondiale. Quindi è una prima esperienza per lui, però è andata benissimo. So, una prima volta nel Gravel. Che tal del percorso? Ti gustava? Sì, è un ricorrido molto rapido. Io sto acostumato a mountain bike con zone più tecniche, più lentiche. E qui è un ricorrido più simile a la carretera, a la strada. E, bueno, la carrera, tatticamente, era più parecita a una carrera di carretera. Al principio c'era un gruppo molto grande di corredori. E, conforme la metà del ricorrido, la durezza si va facendo estragos e il gruppo si va riduzendo e al final solamente hemos quedado los más fuertes. Claro, quindi un percorso molto selettivo, con tante serie scendi, tanti mangia-bevi, tanti strappi, una rimonta alla sua rispetto alla prima parte di gara che ha permesso poi di sgranare il gruppo finale e vincere. Congratulaciones! Ah, uè, grazie, grazie. La metà corsa, in un punto molto duro, c'era un bello strappo. Siamo rimasti in pochi, abbiamo iniziato a fare una bella selezione e da lì siamo rimasti una decina. Poi la corsa, sapevo che si sarebbe decisa a Fubine, infatti così è stato. Nella prima parte di salita sterrata ho iniziato a fare il ritmo io. Così ho messo un po' di fatica nelle gambe degli altri perché io non sono molto forte negli scatti brevi ma sul passo posso difendermi molto meglio e faccio la selezione. Sempre in quel tratto lì poi c'era uno strappo molto duro in asfalto che non mollava e siamo rimasti in quattro, ho spinto quasi tutto quel che avevo così per fare la selezione maggiore e da lì in poi siamo arrivati fino al traguardo in quattro ci sono state un po' di schermaglie qua e là sulle ultime salite e ce la siamo giocata in volata. Io, come ho detto, non essendo uno rapido e scattante ho provato a anticipare ma la gara era già scritta per un mio terzo posto e così è stato. È un percorso bellissimo, molto impegnativo avevo già fatto l'anno scorso la serenissima grave in Veneto con la nazionale ma avevo un percorso totalmente diverso perché era tutto pianeggiante oggi comunque era molto impegnativo e anche le strade non erano così facili anche quando ero in pianura perché erano più smosse c'erano pietre, anche acciottolato difficile. Comunque è una bellissima esperienza e anche una bella disciplina che premia i corridori che hanno molto fondo perché comunque rispetto a una gara su strada si ha sempre la gamba in tiro anche quando si è in pianura la scia si conta ma comunque devi sempre continuare a spingere e poi in salita le bici da gravel sono più lente delle bici da strada quindi sono più esigenti e tutto ti porta più stanchezza nel finale. Da martedì a domenica prossima correrò il Giro di Romania poi ci sono le gare del calendario professionistico qui in Italia e spero di partecipare al Mondiale visto il bel risultato di oggi nella gravel. Oggi è stata una gara innanzitutto bellissima per il percorso e perché è la prima prova di livello di questa nuova disciplina posso dire sulle strade di casa quasi visto che abito a 40 minuti da qua. Ci tenevo ad onorare questa prima maglia azzurra che comunque fa la storia di questa disciplina. Sono onorato di essere stato convocato da CT Pontoni e Daniele e ho cercato di tenere i primi non ho fatto tanti tatticismi ho detto li tengo finché ne ho so che pecco un po' di tecnica perché non ho mai corso off-road quest'anno è il primo anno di questo progetto personale che ho con il gravel poi adesso la disciplina sta crescendo e mi ritrovo con questa prima maglia azzurra che sicuramente mi dà soddisfazione. Posso dire che l'obiettivo di oggi era essere di supporto agli altri ragazzi della nazionale e per quanto mi riguarda ottenere il miglior risultato possibile puntavo comunque a arrivare nei 10 credo di aver fatto ottavo assoluto quindi sono contento così soprattutto perché è la prima prova di livello con altra gente che comunque corre anche fuori strada e essere lì davanti nei primi 10 mi dà una bella soddisfazione. Sono stato con i primi fino a una ventina di chilometri dall'arrivo poi ripeto per qualche mancanza tecnica ho perso il gruppetto dei primi 4-5 su uno strappo e niente sono rimasto un po' a bagnomaria mi hanno ripreso altri due e credo di aver finito ottavo però personalmente sono contento so che c'è molto margine per migliorare se questa disciplina continuerà a crescere e ci saranno altre prove in maglia azzurra mi farò trovare pronto. Il prossimo appuntamento c'è il campionato italiano gravel è un evento che organizzerò io nel Canavese dove visto che sarà la settimana prima del mondiale quindi l'1-2 ottobre abbiamo anche inserito una prova da 200 chilometri si chiama Erratico gravel e poi il campionato del mondo il primo di questa disciplina sarà l'8-9 ottobre in Veneto quest'anno ho cercato di fare un calendario seguendo un po' gli sviluppi di questa nuova disciplina quindi il più misto possibile però adesso mi sono un po' guardato dentro ho detto l'agonismo ce l'ho nel sangue visto che il gravel ha preso anche questa fascia molto agonistica cerco di essere presente anche a questi eventi e dare il meglio di me. Daniele Pontoni leggenda del cross italiano la GCT della Nazionale Italiana Grave oggi è il debutto assoluto per voi? Certo, un debutto importante sia per gli atleti che per noi commissari e nostro staff che ci ha permesso anche di capire meglio come funziona questa specialità bellissima, interessante credo che nei prossimi anni ci saranno sviluppi importanti in questa specialità e anche per quanto riguarda la parte tecnica ritorniamo a casa con un ottimo risultato con la parte femminile il secondo posto di Barbara Guarischi che fino a dieci giorni fa era quasi una scommessa ma l'ho voluta fortemente la partenza di questa gara seconda classificata adesso con lei sicuramente farà parte del nostro progetto per questo finale di stagione sesto posto anche per Carlotta Borrello giovane al secondo anno nella categoria Ander 23 quindi molto bene ha avuto qualche problemino la Rebecca Gariboldi problemi di stomaco quindi che l'hanno un po' messa in difficoltà i maschietti molto bene perché Luca Cibrario non aveva la maglia della Nazionale ma fa parte del nostro gruppo quindi molto bene il suo podio come Mattia Vielli è arrivato quinto Folcarelli era subito dietro Antonio ha rotto il cambio gli ultimi 30 chilometri e comunque si è ben difeso piazzandosi nei primi 20 quindi sono molto soddisfatto per noi del fuoristrada di questa giornata per me per il team manager Amadio e per Massimo Ghirotto e per tutto il settore quindi poi voglio fare anche i complimenti grazie agli organizzatori al sindaco che ci ha ospitato e a questa magnifica terra che ci porterà nei prossimi anni credo grande altre sorprese grazie e complimenti Daniele grazie a voi arrivederci Erwin Werbeck il manager il coordinator di Gravel Track USA World Series un molto buon giorno di città oggi sì il Gravel è nuovo il Gravel è famoso per le strade Bianchi in Siena ma ora il Gravel è riuscita a tutti i ritori di diversi tipi come hai molti Granfondos in Italia quindi è il primo anno della World Series UCI Gravel e sì è stata un'esperienza ecco qui un buon corso come tutte le stesse e le piccole ma molto difficile quindi sì è stato un buon evento oggi secondo Erwin è un percorso comunque molto impegnativo vero l'Italia è un patrimonio importante di gare come le strade bianche di Toscana ma anche il Gravel avrò secondo il grande futuro quindi vediamo l'anno prossimo sì ovviamente sarò qui l'anno prossimo grazie grazie dopo due anni di organizzazione perché questo è il tempo che è durata questa organizzazione anche se non si direbbe finalmente oggi si è svolta questa prima Monsterato appunto facendo parte di una gara mondiale della prima tappa italiana di questo mondiale che secondo me è una competizione favolosa come dicevo l'impegno è stato notevole da parte di tutti gli 11 sindaci dei comuni che ha riguardato questa tappa la soddisfazione è doppia avevamo qualche timore sia dettato un po' dalle condizioni climatiche ma soprattutto anche per quanto riguarda l'organizzazione invece devo dire che siamo stati tutti mi metto anche io in prima persona impeccabili in questa bellissima manifestazione domani si ripete sullo stesso percorso quindi percorso da 125 km percorso da 60 che è riservato agli amatoriali quindi agli atleti che hanno questo hobby diciamo come passione e quindi saremo presenti nuovamente sul territorio per garantire la sicurezza di questi atleti per far sì che anche domani vada tutto perfettamente bene oggi è stata una bellissima cosa abbiamo fatto tutti insieme con tutti gli altri paesi abbiamo diciamo portato tantissima gente in Monferrato per questa bellissima gara ho visto i corridori che erano praticamente molto stanchi perché tutte le nostre colline sono sono molto difficili da superare però anche con soddisfazione perché alcuni dicevano che hanno visto dei posti bellissimi e questo ci riempie di orgoglio per il nostro Monferrato e spero che che si ripeta si ripeta e che continui così stiamo conoscendo Venezia sindaco di Quattordi oggi Quattordi dal centro dell'attività grave in Italia come gratulazioni grazie è stato un impegno elevato diciamo solamente questo sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista del superamento dei piccoli e grandi problemi che ci sono succeduti nel corso della giornata alla fine però c'è una grandissima soddisfazione per il risultato 285 partecipanti per la gara race e una settantina di partecipanti per i veteran per essere la prima edizione per essere la prima volta che organizziamo questo evento personalmente lo valuto un risultato eccellente gli altri scusate la pensino come vogliono oggi il Monferrato ha vissuto anche un'attività di sport quindi al centro anche dell'attività internazionale comunque tanti atleti 20 nazioni più presenti davvero un festival del ciclismo oggi che è stata la ciliegina dell'iniziativa che abbiamo voluto mettere a punto scopo di questa manifestazione è stata quella di rendere visibili ad una quantità rilevante di persone le bellezze del Monferrato e debbo dire che oltre 20 paesi che si sono presentati al cancello dello Start è un risultato importante anche questo certamente credo che avremo lasciato un buon ricordo del nostro territorio e della capacità di tutti i dieci sindaci che con me hanno contribuito e collaborato alla realizzazione di questa iniziativa grazie sindaco grazie a voi